E anche quest'oggi, sensazionale, sulle torce, sulle torce, sulle torce, 29 ottobre, 2021, Grazie a tutti! E ancora, per valentina, i people, i people, i people. Vale, adesso chiudi gli occhi e sfrighi il desiderio e quando hai il desiderio alzi la mano, ok? Appena hai il desiderio alzi la mano. Quindi noi facciamo il countdown e poi puoi soffrire. Ce l'hai? Tutti insieme! Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno! Buon celebraio! Tanti auguri! Tanti auguri! Tanti auguri! E valentina! Adesso lei però vuole sentire che voi ci siete, no? Quindi dobbiamo fare confusione quando lei arriverà. Vogliamo alzarci nuovamente tutti in piedi che ci fa bene la periartrite alle sinocchia, sai? Tutti insieme, dai, sui piedi, sui piedi, sui piedi, sui piedi che arriva Valentino. Mi raccomando che facciamo un video ricordo e poiché deve essere un video ricordo, dobbiamo impegnare, ok? Tutti insieme, ci siamo? Proviamo, proviamo ad alzare le mani, proviamo ad alzare le mani, dai sulle mani che ci fa bene la periartrite, anche alle spalle, dai sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani. E si scatta un bel applauso! Grazie a tutti! Grazie a tutti!